Bottone verde, verde, schiaccio, meraviglia della meraviglia. Tirano, sono arrivato dopo due ore e mezza da Milano, Tirano, meraviglia. C'è l'altro treno, primo binario, che torna indietro, no ma rimango qua un'ora, voglio vedere Tirano. Praticamente si chiama così, sono qui, qui è arrivato alla stazione, bellissimo. C'è il binario 1 che ritorna, no aspetta ci mancherebbe altro, dopo due ore e mezza abbondante che sono lì. Oh che bello quel paesino là in cima, devo chiedere al mio amico di Novate Mezzola come si chiama quel paesino là in cima sopra Tirano. Ok, ok, sono arrivato, Aldo, qui in Lombardia, Valtellina Alta, provincia di Sondrio sempre, non sono Sondrio. Proseguito cammino dopo Villa Tirano, sono arrivato esattamente in questo luogo. Ecco qua, guardo il treno, il primo binario, che riparte, riparte, voglio vedere la partenza, che aria pura, c'è salubre qua. Ecco che parte, parte per Milano Centrale, adesso si vede benissimo la stazione di Tirano, è una elegante sala d'attesa, molto bella, eccola qua di fronte a me, di fronte, rimango qua a un'oretta, il prossimo treno, e intanto vado a mangiare qualcosa di buono, qualcosa in una pasticceria, qualcosa di eccellente. Qua c'è l'altra ferrovia, quella svizzera, ma non importa, sto qua nel mio paese a vedere questo luogo che mi piace. Aldo, un saluto.